La stagione degli incendi è purtroppo ripartita con un fine settimana che ha visto interventi a Rosciano ma anche nell'Aquilan, nella frazione di Roio, dove vicino ai mappi si è sviluppato il fuoco e dove nei cittadini si è subito riaccesa la paura perché sono ancora impresse nella mente e nella memoria le immagini della pineta a fuoco negli anni scorsi della montagna di San Giuliano. Con l'estate e con le temperature roventi i rischi sono sempre elevati. Come è noto la regione dal 2011 si è dotata del piano antincendio boschivo che analizza il territorio ed evidenza anche le zone maggiormente a rischio riepprovato ogni anno. Come ogni anno la protezione civile regionale è impegnata nella campagna antincendio con uomini e mezzi anche se lo stesso sindacato dei vigili del fuoco ha lanciato un grido di dolore per le risorse esigue. Come gli altri anni e con più potenzialità abbiamo in campo circa 80 moduli nostri moduli composti da mezzo stradale, pick up fuoristrata più il modulo antincendio trasportato. A questi vanno aggiunti i moduli delle associazioni di volontariato che hanno nella propria disponibilità che sono sia assetti speciali costituiti da autobotti o mezzi di grossa capienza sopra i 5.000 litri in moduli propri, in moduli di proprietà. La regione cosa ha fatto quest'anno? Oltre chiaramente ad attivare la convenzione a norma di legge con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali che sono poi le forze che hanno maggior impatto sulla situazione. La regione ha istituito un proprio corpo di DOS che sono direttori operazioni di spegnimento. Siamo in tutto, compreso io e gli altri vertici della regione siamo in tutto 14 persone, tra noi e i DOS dei parchi che operano all'interno delle aree boscate e ci sono 40 COS che sono coordinatori dell'operazione di spegnimento che sono praticamente gli operatori che collaborano col DOS, sia esso regionali o dei vigili del fuoco per l'operazione e la gestione delle squadre di terra. Abbiamo avuto incendi consistenti soprattutto nel Chietino, abbiamo incendi consistenti anche in prossimità di aree protette e aree coltivate, purtroppo la temperatura è quella che è, la stagione è abbastanza avanzata, la massa legnosa ed erbacea che è in giro è tantissima perché la stagione primaverina è stata piovosa, quindi gli incendi trovano un terrino particolarmente favoribile. Siamo intervenuti, sono tre giorni che stiamo già correndo tra gli incendi, tra operazioni di spegnimento e bonifica, attivazione dei mezz'aere e quant'altro. Speriamo in un clima più clemente che ci porti ad avere una situazione meno onerosa e meno grave.